Si continua a parlare del sottopasso che dovrebbe nascere a San Giovanni Tiatino, a San Buceto in particolare, sindaco Marinucci. Voi non siete d'accordo, avete scritto una lettera al Ministero, ma avete soprattutto convocato il Governatore per un Consiglio Comunale straordinario il 21 giugno. Sì, va precisato che Ferrovie dello Stato intende chiudere questo passaggio a livello da circa gli anni 70-80. L'amministrazione comunale che si sono precedute, la mia, hanno sempre dato un parere negativo. Io ho continuato su questa strada e nel 2013 ho revocato anche una delibera che prevedeva uno studio di fattibilità, quindi solamente una consultazione tecnica che chiaramente ha rimesso a noi un progetto che abbiamo ritenuto assolutamente non attuabile. Nel frattempo non l'abbiamo revocata, quindi la mia amministrazione ha deciso, perché abbiamo i numeri per poterlo fare, di non autorizzare Ferrovie dello Stato a passare sotto il nostro tracciato ferroviario. Siccome a gennaio del 2016 siamo venuti a conoscenza che il master plan dell'aeroporto prevede il raddoppio della ferrovia, abbiamo modificato il nostro piano regolatore, che è uno strumento vincolante, e abbiamo predisposto l'interramento del tracciato ferroviario. Oggi è nato un comitato, il comitato ci ha chiesto un'audizione, io ho ritenuto che a questa eduzione dovesse essere presente il governatore D'Alfonso, il quale ha confermato la sua presenza per il 21 di giugno alle ore 18.30 nella sala del Consiglio Comunale. E negli incontri precedenti a quelli avuti con la mia amministrazione, il comitato ha incontrato anche le forze politiche che oggi in Consiglio Comunale sono all'opposizione, ma sono al governo centrale, i quali con delle idee proprie pensano di poter intervenire a livello del governo centrale per modificare questo tracciato o addirittura eliminarlo. Noi siamo d'accordo con tutte le ipotesi, quello che rimane fermo è che la mia amministrazione comunale non vuole assolutamente che Ferrovie passi sotto la tracciata ferrovia e quindi crei un buco al centro del paese che si andrà ad aggiungere agli altri buchi che abbiamo dovuto subire in passato.